Nel prossimo paper, gli editori, Eriksson e Wolderström, vogliono analizzare l'effetto dell'inheritazione sull'evoluzione usando evidenze dai registri di popolazione di Svedia. Il main aim di questo topic è per investigare l'impatto casuale dell'inheritazione sull'evoluzione per studiare l'effetto dell'inheritazione sull'evoluzione e per vedere come l'inheritazione sull'evoluzione potrebbe influenzare questo risultato. Dobbiamo dire che non c'è un consenso sulla letteratura sull'evoluzione dell'inheritazione in l'evoluzione o dell'evoluzione dell'evoluzione. Per esempio, autori come Piketty dicono che questa è una delle principali fuori dell'increzzamento dell'inheritazione che possiamo osservare. Come ho detto, i dati sono stati a livello individuale, sull'evoluzione e sull'evoluzione. I dati sull'evoluzione sono per il periodo 2002-2004, mentre i dati sull'evoluzione cobrano un periodo di tempo perché gli autori in questo paper vogliono anche analizzare l'effetto dell'inheritazione lungo dopo aver ricevuto l'evoluzione. Per questo proposito, l'evoluzione sono classificati in un'evoluzione in un anno prima di morire, la distribuzione dell'inheritazione che hanno lasciato, e possiamo vedere che sono molto simili. Di sotto abbiamo la distribuzione dell'evoluzione in un anno prima di morire, e qui la distribuzione dell'evoluzione. ciò che possiamo vedere in questi due gravi è che la maggior parte dei hairs è ineritato quando sono tra 40 e 60, e anche nella distribuzione dell'evoluzione c'è una parte non deglutabile dell'evoluzione che ha nulla o 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 o. Quando parliamo dell'effetto dell'inheritazione su l'evoluzione dell'evoluzione, bisogna distinguere tra due effetti. Uno che gli autori chiamano il effetto di meccanico e uno che chiamano l'adjustamento di comportamenti. Il effetto di meccanico capisce solo l'immediato distribuzione che rischia quando gli hairs ricevono l'inheritazione. è come se si ricevono l'inheritazione e lo salvano e non si tratta di 7. Inoltre il 7.1 prende anche in attenzione la risposta di comportamenti possibili perché dopo che un agente ricevono un certo numero di valutazione questo può molto probabilmente affettare la scuola di consumazione, l'investimento o la decisione di servizio di lavoro. ma l'estimazione è performata non parametrically e è mostrato come la distribuzione cambia dopo l'inheritazione. Ci sono anche le calcolazioni delle mesurazioni unidimensionali di qualità come l'inheritazione di Gini coefficiente, le top e bottom wealth shares e le wealth percentile ratio che sono le mesurazioni relative di qualità mentre l'interquantile wealth range sono le mesurazioni di dispersione. qui abbiamo la distribuzione non parametriche del effetto meccanico e vediamo che qui abbiamo la differenza in densità c'è un grande ruolo di circa 0 e negativi valori e un incremento al livello moderato di wealth mentre le due tali che corrispondono alla maggior parte e le maggior parte della popolazione sono quasi non affettate. Questo significa che c'è una differenza nella qualità relative con le due tali che per esempio hanno 0 wealth si muove in distribuzione dopo aver ricevuto l'inheritazione. Questi risulti sono anche confermati per esempio il fallo nel Gini coefficiente è quasi 7%. L'altro risultato importante che si trovano è che da partecipare la corrispondenza di wealth sui generazioni e tra la wealth e l'inheritazione la wealth percentile aumenta da 80%. Questo è praticamente perché la wealth la wealth ottenerebbe la maggior parte dell'inheritazione con rispetto all'inheritazione e quindi abbiamo aumentato l'absoluto disperso di wealth. Queste caratteristiche sono anche confermati in questa grazia e l'aspetto abbiamo l'aspetto dell'inheritazione e potremmo vedere che passiamo sull'inheritazione l'aspetto dell'aspetto dell'aspetto è più e più 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 ma se prendiamo considerare una mesura che dividiamo l'inheritazione dalla pre-inheritazione e la parte è quasi reversata con l'aspetto dell'aspetto 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 l'aspetto di l'aspetto dell'aspetto è più uguale che la distribuzione dell'aspetto 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 e ci sono cinque possibili meccanismi per questo l'aspetto per esempio potrebbe avere un numero di bambini che sia più rispetto ai pochi o possono donare più portare questa instituzione con rispetto ai pochi delimitato libero e intergenerational transfer che le decine potrebbero fare quando erano erano un test di autore dice che i i meccanismi non non vediamo l'aspetto che la come ho detto prima analisi questo potrebbe aiutare un semplice non solo perché l'agente potrebbe cambiare il suo comportamento ma quando compariamo due distribuzioni in due periodi di tempo potrebbero cambiare distribuzione per esempio il prezzo dopo un prezzo prezzo è molto vero che osserviamo un aumento migliori in l'evoluzione perché le famiglie sono possibili dalla maggior parte della popolazione mentre se abbiamo un rischio nel mercato finanziario avremo una distribuzione che sia più uguale perché fondamentale fondamentale sono generale fondamentale della popolazione l'idea trova che il cambiamento del effetto non cambia ma sua magnitudine è molto piccola per esempio c'è un fallo dell'efficienza solo del 4 e di 7 e grazie in quale il change in distribuzione del direct mercurial effetto è overlappato con la distribuzione del 3 cohort co discrepanci possono essere esplicate dal fatto che i less wealth individui hanno un più marginale o che ricevano più retorni ma come autori non possiamo assessare la credibilità di queste due esplici esplici che c'è una differenza nelle metodze perché i dati che sono usati per effetti meccanici sono a valore dei dati che sono usati per effetto di varietà e normalmente il valore è solo 75% del varietà poi vediamo come l'efficienza sviluppa dal 1999 al 2001 osserviamo che i tre cohort hanno un tra e un ogni cohort genera abbiamo un desiderato nella delle due che non sono usate come non usate come una Il Gini coefficiente di quattro cohorte? Measurando che? Income? Wealth? Wealth. Right. They measure first the data on wealth from 1999 to 2007 and for this graph they basically use a difference in different estimator in which they use the two cohorte that do not inherit as a control group to see if the Gini coefficient actually change when a different cohort inherits. The previous result suggests that the mobility increases substantially as a result of the inheritance and the author used for example the transition probability matrix to see how the various parts of the wealth distribution are affected by the inheritance and they find that the mobility effect is larger among the hairs in the lower part of the distribution than the hairs that are on the top. Finally they also take into consideration what is the role of the inheritance taxation on wealth inequality. We have to say that in Sweden this tax was abolished in 2005 since it was strongly criticized for imposing huge payments especially on the lower part of the population and the directors actually found that the effect is reversed with respect to the one of the inheritance. There is an increasing relative inequality but decreasing the absolute dispersion but the magnitude of this effect are very small since the tax rate was not so high. they also consider a possible use of the tax revenues and they take into consideration three possible redistribution schemes in as a lump sum transfer giving that to all the population to just the agent on the right part of the median or just to the lower bottom to the lower bottom of the distribution and they find that the equalizing effect is that the redistribution schemes can invert the effect of taxation. For example, in the last redistribution schemes in which they consider to give just to the bottom part of the distribution the tax revenues, the gene coefficient falls by 14%. So we can conclude that in Sweden the inhabitants had an equalizing effect but we must be careful to consider this result true even for other countries such as for example the United States. This is because Sweden was a country that had a very pervasive welfare state with which people rely less on welfare, more on the state than on their personal savings. But the major message of the main message of this paper is that the majority part of the generated wealth was generated during the 70 or the 60, that are in general a period of the egalitarian welfare state with very compressed the wealth distribution and income distribution. So the equalizing effect that we find nowadays could be generated by this past institution.